In Italia un prodotto di uso comune su 10 è fuori norma. Quasi 1.500 tra capi di abbigliamento, scarpe, prodotti elementari, ma anche giocattoli e metalli preziosi sugli oltre 15.000 controllati sul mercato nascondono irregolarità. E' quanto emerso nel corso delle oltre 4.000 ispezioni effettuate in Italia dalle Camere di Commercio, alle quali il Decreto Sviluppo ha affidato competenze specifiche nella tutela del Made in Italy e dei consumatori, dalla circolazione di prodotti non sicuri, ma anche per garantire la concorrenza leale e la lotta alla contraffazione. La metà delle irregolarità si nasconde nell'etichetta di capi di abbigliamento e calzature, che indicano composizioni mendaci a danno della buona fede e a volte della salute stessa del consumatore. Solo nell'agroalimentare il supermarket del Tarocco si traduce in una perdita d'affari di 60 miliardi di euro l'anno, ovvero 7 milioni di euro l'ora. Basti pensare che in Italia si realizza più del 21% dei prodotti a denominazione d'origine, registrati a livello comunitario. A questi vanno aggiunti gli oltre 400 vini DOC, DOCG e IGT e gli oltre 4.000 prodotti tradizionali censiti dalle regioni e inseriti nell'albo nazionale. Meno lavoro, meno immigrati. Quest'anno in Italia diminueranno del 27% le assunzioni di manodopera non stagionale straniera, nell'industria e nei servizi. 60.570 posti di lavoro contro gli 82.990 del 2011. È quanto risulta da un'indagine del sistema informativo a Celsior Union Camere, Ministero del Lavoro, secondo cui a fare a meno dei lavoratori stranieri saranno soprattutto le piccole imprese, meno 88,5% rispetto allo scorso anno, e le regioni del nord, meno 69%, con al primo posto la Lombardia, seguita da Emilia Romagna e Piemonte. In termini assoluti, le entrate di nuovi occupati immigrati si oreranno le 113.000 unità, contro le 138.200 che le imprese prevedevano di assumere lo scorso anno. Il perdurare della crisi e la progressiva etnicizzazione di alcune figure professionali farà tuttavia aumentare la quota di lavoratori immigrati sul totale delle assunzioni, passando dal 16,3% dello scorso anno al 17,9% di quest'anno. Cucine ed edilizia si confermono gli ambienti di lavoro in mano agli stranieri. Nei servizi di ristorazione e preparazione di cibi, il rapporto tra immigrati e italiani supera il 75%. Prossimi al 50% sono manovali, pittori, stuccatori e operai dell'industria plastica. Seguono gli addetti all'assistenza personale e ai servizi sanitari e sociali, idraulici e cuochi in alberghi e ristoranti.